leo il camioncino curioso e il trattore finita l'estate siamo in autunno i meli hanno maturato i loro frutti le mele guardate quante ce ne sono sono buonissime e ottime per la nostra salute lifty il carrello elevatore ha portato un'altra cassetta vuota è tempo della raccolta delle mele anche per i robot che si divertono a riempire le cassette scuotendo l'albero cadono i frutti più maturi ma non sempre così divertente e il robot blu vuole fermare il suo compagno a troppo tardi non trovate piacevole essere in mezzo a una montagna di mele succose profumate e ora il carrello è pieno qualcuno lo deve portare via ciao leo anche tu non puoi trainare un carrello come facciamo è colmo di mele tu hai sempre una soluzione due ruote grandi e due piccole sospettiamo che sia un trattore un robusto telaio questo cos'è si l'asse per le ruote anteriori un potente motore due grandi parafanghi sono giusti per le ruote posteriori ecco le quattro ruote le più piccole davanti e le più grandi dietro bellissimo presto inseriamo il volante poi la leva per cambiare le marce il sedile e infine i fari e abbiamo un potente trattore evviva cosa c'è leo manca il tubo di scarico dei fumi del motore pensi di trovarlo qui al parco giochi cerchiamolo insieme qui ci sono dei tubi cerchiamo di capire no questo è giusto per una nave no di un'automobile eccolo andiamo a montarlo sul nostro bellissimo trattore si muove che meraviglia e che potenza guardate hai il gancio per trainare il carrello corra trattore sei forte pensate quante torte di mele la marmellata buonissima ma anche coglierle dalla pianta e mangiarle è bellissimo evviva le mele alla prossima puntata è l'arancia turudu turu e 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 l'arancia turudu e l'arancia turudu turu e l'arancia turudu e l'arancia turudu turu e l'arancia turudu 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 e l'arancia turud E' la banana E' il melone E' l'anguria E' l'amore E' i lamponi E' le fragole E' anche l'uva L'albicocca Cadde giù E' le pere E' le pere E' le pere Un camioncino si sta rilassando nel parco giochi, chi è secondo voi? E' Leo Junior Oh, e questo che cos'è? Un albero bianco? Sembra un melo Ti va di colorarlo insieme? Andiamo Oh, quante vernici Pronto per spruzzare il colore? Che colori ci servono per un melo? Verde 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 Grazie Grazie 晚 ci siamo possiamo cominciare questo è il marrone il colore del tronco del melo questo è verde il colore delle foglie ottimo lavoro leo junior ma ora devi continuare giallo il giallo è per le mele ma quelle mature blu leo hai mai visto le mele blu no di che colore abbiamo bisogno rosso mele rosse mature ben fatto leo è un bellissimo albero di mele ciao a presto leo a presto